Beata Chiara Luce Badano, santo del giorno 29 ottobre. Chiara Badano nacque a Sassello il 29 ottobre 1971. Figlia di Ruggero Badano e di Maria Teresa Caviglia, conobbe il movimento dei focolari nel 1980 e ne divenne subito una zelante attivista, occupandosi principalmente di bambini e anziani. Iniziò anche una fitta corrispondenza con la fondatrice dei focolari, Chiara Lubic. Trasferitasi a Savona per gli studi ginnasiali, nel 1988, durante una partita di tennis, avvertì un forte d'odore alla spalla e nel febbraio dell'anno successivo le fu diagnosticato un osteosarcoma, un tumore osseo, con metastasi. Operata una prima volta a Torino, fu poi sottoposta a chemio e radioterapia. Nonostante le cure, perse l'uso delle gambe e nel giugno successivo fu di nuovo operata. Durante il suo lungo ricovero continuò determinata a seguire le attività dei focolarini, donò i suoi risparmi a un amico in partenza per una missione nel Benin e realizzò lavori a mano da vendere per beneficenza. Chiara Luce trascorse gli ultimi mesi di vita nella sua casa, morì il 7 ottobre 1990. La sua ultima volontà fu quella di essere deposta nel feretro indossando un abito bianco da sposa, considerando il momento del suo trapasso come il matrimonio con Gesù. Fu proprio Chiara Lubic a darle il soprannome di Chiara Luce. Le sue spoglie sono sepolte nella cappella di famiglia del cimitero di Sassello. Nel 1999 iniziò il processo di canonizzazione, soprattutto a motivo del suo eroico comportamento di fronte alla terribile malattia. Fu dichiarata venerabile da Papa Benedetto XVI nel 2008. La circostanza che favorì invece la causa della sua beatificazione, avvenuta il 25 settembre 2010, fu la miracolosa guarigione attribuita appunto alla sua intercessione di un giovane triestino in fase terminale per una meningite fulminante.